L'essa a cavallo fra la fine dell'Ottocento e i primi due decenni del Novecento è stata una città unica, straordinaria, picaresca, gaglioffa, banditesca. Raccontiamo e cantiamo la Napoli ebraica del meridione russo con i suoi splendori e i suoi bassi fondi e il suo re, Mishka Iaponci, Michelino il giapponesino, capo dei banditi, amante delle belle donne e mecenate delle altre. Sul palco, insieme a me, un leggendario violinista ebrio di Odessa, il maestro Pavia Ilvernico, uno dei più grandi violinisti del mondo, la sua incantevole consorte e superba violinista Svetlana Makaroba e un tempestoso pianista di Chier, Pavia Ilkashnov. Svetlana Makaroba